Ecri? Sì Sicuro? Sì Vuoi uno di questi Cri? Guarda che ci stanno anche le briossoli dentro Le vuoi assaggiare? Le vuoi assaggiare? Che sono confetti? No no Ma sono bellissime anche i peluri Aspetta che li facciano versi perfetti C'è l'oro Apri 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 Ok Mazza che mare guarda Stupendo Ed ecco a voi cammini Il colore Il colore è oro Chi lo vuole? Eh Devo mandare un saluto per Youtube Guarda come è dentro Guarda Agua 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 Abbiamo fatto veloce questa telecamera Non so che schifo che verrà sotto questo video Comunque Saludiamo gli amici quanti della Sardegna A Fabio A Franco A chi? A Fabio è nido 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 A Fabio è nido